Capitolo 3 La ragazza si era rifiutata di permettere che la conversazione prendesse una piega angosciata. Il cugino avrebbe ottenuto un premio, doveva ottenerlo, e fare una brillante carriera universitaria. Quanto all'appartamento dovevano prima informarsi nel dettaglio. Forse la tassa non avrebbe riguardato loro, o se anche l'avesse fatto, magari non sarebbe stata nell'immediato. Magari sarebbero riusciti a raccimolare abbastanza per pagare, in qualche modo. Ma lui non doveva pensare a niente di tutto questo, solo agli Hunger Games e a come poteva trasformarli in un successo. Al party della mietitura di Fabricia, erano tutti impazziti per Lucy Greybird, gli aveva riferito Tigris. Il tributo di Coriolanus aveva la stoffa della star, avevano dichiarato gli invitati già sbronzi, mentre tracannavano rumorosamente Posca. I due cugini furono d'accordo nel ritenere necessario che lui facesse una prima, buona impressione sulla ragazza, in modo che poi lei fosse disponibile a collaborare. Doveva trattarla non come una condannata a morte, ma come un ospite. Coriolanus aveva quindi deciso di riceverla alla stazione, prima del previsto. Lo avrebbe avvantaggiato un po' nell'incarico, oltre a dargli l'opportunità di conquistarsi la sua fiducia. «Pensa come deve essere terrorizzata, Corio», aveva detto Tigris, «a quanto deve sentirsi sola. Se fosse al suo posto, mi sarebbe di grande aiuto anche il più piccolo gesto da parte tua che mi dia l'idea che ti preoccupi per me. No, più di questo, che per te sono importante. Portale qualcosa, anche di simbolico, per farle sapere che tieni a lei». Coriolanus pensò alle rose di sua nonna, ancora molto apprezzate a Capitol City. L'anziana donna le coltivava con grande sforzo nel giardino pensile del lattico, sia all'aperto, sia in una piccola serra solare. Però si separava a fatica dai suoi fiori, neanche fossero diamanti, quindi c'era voluta un bel po' di persuasione per avere quella meraviglia. «Devo creare un legame con lei». «E le tue rose aprono parecchie porte, come dici sempre». Che gli avesse concesso di prenderne una era la prova di quanto la nonna fosse in ansia per la loro situazione. Erano trascorsi due giorni dalla mietitura. La città non aveva perso il calore soffocante e, anche se il sole era appena sorto, la stazione ferroviaria stava già cominciando ad arrostirsi. Coriolanus si sentiva un po' troppo in vista sull'ampia banchina deserta, ma non poteva rischiare di perdersi il treno della ragazza. L'unica informazione che aveva potuto estorcere al vicino del piano di sotto, lo stratega Remus Doolittle, era che il convoglio sarebbe dovuto arrivare mercoledì. Remus si era laureato da poco e la sua famiglia aveva riscosso ogni favore che l'era dovuto per procurargli quella posizione, che pagava il giusto e forniva un trampolino di lancio per il futuro. Coriolanus avrebbe potuto informarsi tramite l'accademia, però non sapeva se accogliere il treno sarebbe stato visto con disapprovazione. Non erano state fissate vere e proprie regole, ma pensava che quasi tutti i suoi compagni avrebbero atteso di incontrare i loro tributi nella sessione prevista dall'accademia per il giorno seguente. Passò un'ora, poi due, e ancora non comparivano treni. Il sole picchiava attraverso le lastre di vetro del tetto. Il sudore gli colava lungo la schiena, e la rosa, tanto bella la mattina, cominciava già a piegarsi rassegnata. Gli venne il dubbio che l'intera idea fosse mal concepita, e che dalla ragazza non avrebbe ricevuto nemmeno un grazie per averla accolta in quel modo. Un'altra, una giovane donna comune, ne sarebbe rimasta colpita, ma non c'era niente di comune in Lucy Greybird. Anzi, c'era qualcosa di minaccioso in una ragazza che metteva a segno un'esibizione tanto sfacciata, a così poca distanza dall'aggressione del sindaco. E subito dopo aver gettato un serpente velenoso nel vestito di un'altra ragazza. Certo, lui non sapeva se fosse velenoso, eppure era lì che volava il pensiero, no? Era davvero un tipo terrificante, quella Lucy Greybird. E adesso eccolo, Coriolano, si indivisa, a stringere una rosa tra le dita come uno studentello innamorato nella speranza che lei, cosa? Lo trovasse di suo gradimento? Si fidasse di lui? Non lo uccidesse a prima vista? La sua collaborazione era fondamentale. Il giorno prima Satiria aveva presieduto a una riunione dei mentori, nella quale il loro compito era stato descritto con più precisione. In passato i tributi entravano direttamente nell'arena il mattino successivo all'arrivo a Capitol City, ma ora che erano coinvolti gli studenti dell'Accademia, i tempi si erano allungati. Era stato stabilito che ogni mentore intervistasse il proprio tributo e disponesse di cinque minuti per presentarlo a Panem in diretta televisiva. In effetti, guardare gli Hunger Games poteva essere nell'interesse di chi tifava per qualcuno in particolare. Se fosse andato tutto bene, il programma sarebbe stato trasmesso in prima serata e c'era addirittura la possibilità che i mentori venissero invitati a esprimersi sui loro tributi nel corso dei giochi. Coriolanus promise a se stesso che i suoi cinque minuti sarebbero stati il pezzo forte della serata. Passata un'altra ora, era sul punto di arrendersi, quando il fischio di un treno risuonò dal fondo della galleria. Nei primi mesi di guerra, quel fischio aveva segnalato il rientro di suo padre dal campo di battaglia. L'uomo aveva ritenuto che, in quanto magnate delle munizioni, prestare servizio nell'esercito aumentasse la sua legittimità nell'impresa di famiglia. Dotato di una notevole abilità strategica, nervi d'acciaio e personalità dominante, aveva fatto carriera in fretta. Per dimostrare pubblicamente la loro dedizione alla causa di Capital City, gli Snow si recavano tutti insieme alla stazione, Coriolanus nel suo completo di velluto, ad attendere il ritorno del Granduomo. Fino al giorno in cui il treno aveva portato solo la notizia che la pallottola di un ribelle aveva colpito il bersaglio. A Capital City era difficile trovare un posto che non fosse legato a un ricordo angosciante, ma questo era particolarmente brutto. Coriolanus non poteva dire di aver provato un grande amore per quell'uomo distante e severo, ma di certo si era sentito protetto da lui. La sua morte era associata a una paura e a una vulnerabilità che non era mai riuscito a scrollarsi di dosso. Il fischio risuonò un'altra volta quando il treno entrò in stazione e si fermò con uno stridio di freni. Era un convaglio corto, solo una locomotiva e due carrozze. Coriolanus cercò di scorgere il suo tributo dai finestrini prima di accorgersi che non ce n'erano. Quelli non erano vagoni destinati al trasporto passeggeri, ma al trasporto merci. Pesanti catene di metallo unite da lucchetti antiquati assicuravano il carico. È il treno sbagliato, pensò. Tanto vale che torni a casa. Proprio allora, però, da uno dei carri merci sopraggiunse un grido chiaramente umano che lo bloccò dov'era. Si aspettava un afflusso di pacificatori, ma il treno fu ignorato per venti minuti prima che alcuni soldati si avviassero ai binari. Uno di loro scambiò qualche parola con un macchinista invisibile e un mazzo di chiavi venne gettato dal finestrino. Il pacificatore si diresse con tutta calma verso il vagone di testa, passando in rassegna tutte le chiavi prima di sceglierne una, infilarla nel lucchetto e girarla. Lucchetto e catene caddero e l'uomo fece scorrere il pesante portellone. Il carro sembrava vuoto. L'uomo estrasse il manganello e lo batté contro lo stipite. «Va bene, gente, muoviamoci!» Sulla soglia apparve un ragazzo alto, con la pelle scura e vestiti di juta rattoppati. Coriolanus riconobbe il tributo del distretto undici di Clemenzia, snello ma muscoloso. Una ragazza dalla carnagione simile, con un fisico scheletrico e una tosse stizzosa, si unì a lui. Erano tutti e due scalzi, con le mani in ceppi davanti al corpo. Per scendere a terra c'era un salto di almeno un metro e mezzo, perciò si sedettero sul bordo del carro e poi si lanciarono goffamente sulla banchina. Una ragazzina pallide, minuta, con un abito a righe e una sciarpa rossa, avanzò pian piano fino al portellone, ma parve non capire come coprire la distanza che la separava da terra. Il pacificatore la tirò giù con uno strattone e la piccola cadde di peso, frenandosi a fatica con le mani legate. Poi il soldato entrò nel carro. Trascinò fuori un ragazzino che sembrava avere dieci anni, ma doveva averne almeno un paio in più, e scaricò anche lui sulla banchina. Nel frattempo, l'odore del vagone, fetido di muffa e di letame, aveva raggiunto Coriolanus. I tributi venivano trasportati a bordo di carri bestiame e neanche molto puliti. Si chiese se quei ragazzi avessero avuto la possibilità di mangiare e prendere un po' d'aria, o se fossero stati direttamente chiusi lì dentro dopo le diverse mietiture. Abituato com'era a vedere i tributi sullo schermo, non si era preparato a dovere per quell'incontro dal vivo. Fu pervaso da un'ondata di pena e repulsione. Erano davvero creature di un altro mondo, un mondo rozzo, senza speranza. Il pacificatore passò al secondo carro e sbloccò le catene. Il portellone scivolò da una parte e mostrò Jessup, il tributo maschile del distretto dodici, che strizzava gli occhi di fronte alla luce vivida della stazione. Coriolanus si sentì attraversare da una scossa elettrica e si erse in tutta la sua altezza pregustando l'incontro. Lei doveva essere lì. Jessup saltò rigidamente a terra e tornò a girarsi verso il treno. Lucy Graybird entrò nella luce, le mani legate a coprire quasi del tutto gli occhi mentre si adattavano ai raggi del sole. Jessup sollevò le braccia, i polsi allargati per quanto lo permetteva la catena dei ceppi, e lei cadde in avanti, lasciando che lui la afferrasse per la vita e dopo una piruetta la posasse a terra con un movimento di incredibile grazia. Diede qualche colpetto sulla manica del ragazzo per ringraziarlo e piegò la testa all'indietro per assorbire la luce che si riversava nella stazione. Cominciò a pettinarsi i riccioli con le dita, sciogliendo i nodi e togliendosi i pezzetti di fieno. L'attenzione di Coriolanus si concentrò per un momento sui pacificatori che gridavano minacce all'interno del vagone. Quando si voltò, Lucy Gray lo stava fissando. Ebbe un sobbalzo, ma poi ricordò di essere l'unico sulla banchina a parte i pacificatori. Ora i soldati imprecavano mentre savano un loro compagno nel vagone per recuperare i tributi recalcitranti. «Adesso o mai più!» Andò verso Lucy Gray, le porse la rosa e le rivolse un piccolo cenno con la testa. «Benvenuta a Capitol City!» disse. La sua voce era un po' roca, come se non parlasse da ore, ma pensò che gli conferisse una piacevole maturità. La ragazza lo squadrò, facendogli temere per un attimo che gli avrebbe voltato le spalle o, peggio, che avrebbe riso di lui. Invece allungò le dita e strappò con delicatezza un petalo dal fiore che aveva in mano. «Quando ero piccola, mi facevano il bagno nel latticello e nei petali di rosa», disse in un modo assolutamente credibile, nonostante l'improbabilità dell'affermazione. Passò il pollice sulla superficie bianca e morbida, poi si fece scivolare il petalo in bocca, chiudendo gli occhi per assaporarne il gusto. «Sa dell'ora della buonanotte». Coriolanus si concesse un istante per studiarla. Sembrava diversa da com'era apparsa la mietitura. A parte qualche residuo qua e là, il trucco era stato cancellato e senza appareva più giovane. Aveva le labbra screpolate, i capelli sciolti, il vestito arcobaleno impolverato e sgualcito. Il segno dello schiaffo che le aveva dato il sindaco era diventato un livido viola scuro. Ma c'era anche qualcos'altro. Ebbe di nuovo l'impressione di assistere a un'esibizione, privata questa volta. Riaperti gli occhi, Lucy Gray puntò l'attenzione su di lui. «Non hai l'aria di uno che dovrebbe essere qui?» «Probabilmente no», ammise lui. «Ma sono il tuo mentore e volevo conoscerti a modo mio. Non a quello degli strateghi». «Ah, un ribelle!» commentò. Quella parola era veleno nella bocca dei cittadini di Capitol, ma lei l'aveva detta in tono di approvazione, come un complimento. O lo stava prendendo in giro? Ricordò che se ne andava in giro con dei serpenti in tasca e che a lei non si applicavano le solite regole. «E cosa farà per me il mio mentore, oltre a offrirmi rose?» chiese lei. «Farò del mio meglio per avere cura di te», rispose Coriolanus. La ragazza lanciò un'occhiata indietro, guardando i pacificatori che scaraventavano sulla banchina due bambini mezzi morti di fame. La femmina si ruppe un incisivo sul cemento e il maschio ricevette un bel po' di calci una volta a terra. Lucy Gray sorrise a Coriolanus. «Beh, buona fortuna, bello», disse. Poi ritornò da Gessa, lasciandosi alle spalle lui e la sua rosa. Quando i pacificatori cominciarono a spingere il gruppo dei tributi verso l'uscita principale, Coriolanus sentì che la sua occasione stava svanendo. Non era riuscito a conquistarsi la fiducia della ragazza. Non aveva fatto altro che divertirla per un istante, forse. Evidentemente lei lo considerava poco utile e magari aveva ragione, ma con tutto quello che c'era in ballo, doveva provare ancora. Attraversò la stazione di corsa e raggiunse il gregge dei tributi mentre giungeva all'uscita. «Mi scusi», disse al pacificatore che comandava. «Sono Coriolanus Snow dell'Accademia». Inclinò la testa verso Lucy Gray. «Mi hanno assegnato questo tributo per gli Hunger Games. Vorrei sapere se posso accompagnarla fino ai suoi alloggi». «È per questo che sei rimasto qui tutta la mattina? Per rimediare un passaggio allo spettacolo?», chiese il pacificatore. «Puzzava di alcol e aveva gli occhi cerchiati di rosso». «Vabbè, certo, signor Snow. Unisciti a noi!» In quel momento Coriolanus vide il camion che aspettava i tributi. Più una gabbia su ruote che un camion. Il fondo era chiuso da sbarre metalliche sormontate da un tetto d'acciaio. Ebbe un nuovo flashback del circo della sua infanzia, dove aveva visto animali selvatici, orsi e grandi felini imprigionati in mezzi di trasporto come quello. Eseguendo gli ordini, i tributi presentarono i ceppi per farseli togliere e salirono nella gabbia. Coriolanus esitò, ma poi scorse Lucy Gray che lo guardava e capì che quello era il momento in cui avrebbe pronunciato il suo verdetto su di lui. Se si fosse tirato indietro ora, sarebbe finito tutto. Avrebbe pensato che era un vigliacco e lo avrebbe definitivamente liquidato. fece un respiro profondo e salì. Lo sportello sbatte con violenza dietro di lui e il camion barcollò in avanti facendogli perdere l'equilibrio. Si aggrappò distinto alle sbarre sulla destra e vi finì in mezzo con la fronte quando uno dei tributi gli cadde addosso. Si spinse indietro a forza e ruotò su se stesso per porsi faccia a faccia con i suoi compagni di viaggio. Ora si tenevano tutti almeno a una sbarra salvo la bimba con il dente rotto che era avvinghiata alla gamba del ragazzino del suo distretto. Mentre il camion percorreva rumoroso un ampio viale cominciarono a sistemarsi. Coriolanus capì di aver commesso un errore. Anche all'aria aperta il tanfo era insopportabile. I tributi avevano assorbito il fetore del carro bestiame che si mescolava a un odore acre di sporcizia umana tale da dargli una leggera nausea. Da vicino riusciva a vedere che erano sudici con gli occhi arrossati braccia e gambe piene di lividi. Lucy Gray era incastrata in un angolo della parte anteriore impegnata a tamponarsi un nuovo graffio sulla fronte con l'orlo arricciato del vestito. Lei sembrava disinteressata alla sua presenza ma tutti gli altri lo fissavano come un branco di animali feroci guarderebbe un barboncino viziato. Se non altro sono in condizioni migliori di loro pensò chiudendo il pugno intorno al gambo della rosa. Se mi attaccano avrò una possibilità. Ma l'avrebbe avuta davvero? Contro tanti avversari? Il camion rallentò per lasciare attraversare un vario pinto tram cittadino pieno di gente. Anche se era sul fondo Coriolanus si rannicchiò per evitare di essere notato. Il tram passò il camion riprese a muoversi e lui osò raddrizzarsi. Ridevano i tributi o almeno alcuni di loro sogghignavano di fronte al suo evidente disagio. Cosa c'è bel faccino? Sei nella gabbia sbagliata? Lo apostrofò il ragazzo del distretto undici che non rideva affatto. Il suo odio palese lo innervosì ma Coriolanus tentò di mostrarsi indifferente. No questa è esattamente la gabbia che stavo aspettando. Le mani del ragazzo scattarono rapidissime sollevandosi a serrargli la gola con lunghe dita segnate da cicatrici e sbattendolo all'indietro. I suoi avambracci lo inchiodarono contro le sbarre. Sopraffatto Coriolanus ricorse all'unica mossa che non lo aveva ancora deluso nelle zuffe a scuola. Sollevò il ginocchio e lo affondò con violenza nel linguine del rivale. Il ragazzo dei distretti rantolò e si piegò in due lasciandolo andare. Adesso potrebbe ucciderti. La ragazza del distretto undici gli tossì in faccia. Ha ucciso un pacificatore nell'undici. Non hanno mai scoperto chi è stato. Chiudi il becco, Dil, ringhiò il ragazzo. A chi importa ormai, replicò Dil. Uccidiamolo tutti insieme, disse con cattiveria il ragazzino più piccolo. Non possono mica farci di peggio. Molti altri tributi emisero un mormorio di assenso e si avvicinarono di un passo. Coriolanus si irrigidì per la paura. Ucciderlo. Avevano davvero intenzione di ammazzarlo di botte proprio lì, in pieno giorno, nel bel mezzo di Capitol City. Si rese conto di un tratto che era proprio quella la loro intenzione. Cosa avevano da perdere dopo tutto? Con il cuore che gli martellava nel petto, si acquattò leggermente, i pugni tesi, in previsione dell'aggressione imminente. Dall'angolo del camion, la voce melodiosa di Lucy Gray spezzò la tensione. A noi no, forse. Ma ce l'avete una famiglia a casa? Qualcuno che potrebbero punire la? Quelle parole sembrarono tarpare le ali degli altri tributi. Sgusciò nello spazio ristretto e andò a mettersi tra loro e Coriolanus. E poi, aggiunse, questo è il mio mentore. Dovrebbe aiutarmi. Potrei aver bisogno di lui. Tu come fai ad avere un menatore? chiese Dill. Mentore? Tutti voi ne avete uno, spiegò Coriolanus cercando di apparire all'altezza della situazione. Dove sono allora? Lo sfidò Dill. Perché non sono venuti? Non erano ispirati, immagino, ribatté Lucy Gray. Voltò le spalle a Dill e strizzò l'occhio a Coriolanus. Il camion sterzò per immettersi in una viuzza laterale e sussultò a lungo quello che sembrava essere un vicolo cieco. Coriolanus non riusciva proprio ad orientarsi. Tentò di ricordare dove fossero alloggiati i tributi negli anni precedenti. Non stavano nelle stalle che ospitavano i cavalli dei pacificatori? Sì, credeva di averne sentito parlare da qualcuno. Una volta arrivati avrebbe cercato un pacificatore per spiegare la situazione. Chiedere un minimo di appoggio magari data l'ostilità. Dopo quell'occhiolino da parte di Lucy Gray poteva essere utile restare. Ora stavano entrando in retromarcia in un edificio poco illuminato o forse un magazzino. Coriolanus inalò una mescolanza penetrante di pesce marcio e fieno vecchio. Confuso, provò a capire meglio cosa li circondasse e strizzò gli occhi fino a distinguere due porte di metallo che si schiudevano. Un pacificatore aprì e prima che chiunque potesse scendere la gabbia si rovesciò catapultandoli su una lastra di cemento freddo e umido. No, non una lastra più uno scivolo in realtà inclinato con un angolo tale che Coriolanus cominciò subito a slittare insieme agli altri. Lasciò cadere la rosa mentre annaspava con mani e piedi in cerca di un appiglio ma senza trovarne uno. Precipitarono tutti per sei metri buoni prima di atterrare in un mucchio scomposto su un fondo arenoso. La luce del sole proveniente dall'alto accecò Coriolanus che si dibatté per liberarsi dal gruppo. Se ne allontanò barcollando per qualche metro si raddrizzò e rimase pietrificato dall'orrore. Non erano le stalle. Per quanto non ci andasse da molti anni ora ricordava chiaramente quel luogo la lingua di sabbia le formazioni rocciose artificiali che si innalzavano con torte nell'aria. La fila di sbarre metalliche cesellate in modo da sembrare piante rampicanti disegnava un ampio arco per proteggere i visitatori e tra le sbarre i volti dei bambini di Capitol City che lo fissavano a bocca aperta. Era nella gabbia delle scimmie allo zoo.